Da parte del centrodestra continuano gli strali diretti al Partito Democratico, ma soprattutto al governatore della Regione Luciano D'Alfonso, che scaldano la campagna elettorale, entrato ormai nell'ultima settimana utile, prima del voto del 4 di marzo. Sotto la lente di ingrandimento dei consiglieri regionali Febbo e Sospiri, ancora una volta le di libere di giunta, e in particolare la 83 del 2018, che dispone il finanziamento di sette opere strategiche che vanno dal potenziamento della tratta ferroviaria della Val di Sangro ai porti di Pescara, Roseto e Franchevilla al Mare, fino all'accesso dei bacini scistici della Maiella e del comprensorio di Ovindoli e di Prati di Tivo. Il tutto per una cifra complessiva di 40 milioni di euro, 40 fantamilioni li definiscono gli esponenti forzisti. Mentre prima, la settimana scorsa, abbiamo detto che erano stamperie di falsario, oggi veramente parliamo di truffa ai danni degli abruzzesi. Leggere la delibera 83, fondata su una lettera che il presidente che sta scappando a Roma scrive al Del Rio, altro ministro che la settimana prossima andrà via, per richiedere un finanziamento di 40 milioni su sette opere importanti strategiche che noi condividiamo e basare questa delibera su una telefonata, cioè quindi per le vie brevi come se tra il Ministero e il Cipe e la Regione Abruzzo si parlasse telefonicamente, non con atti ufficiali per aver fatto questa delibera. Perché le ultime attenzioni vere su grandi infrastrutture che ha avuto questa Regione le ha avute quando Silvio Berlusconi era presidente del Consiglio. Siccome vediamo il panico del presidente della Regione, ci siamo portati avanti con il lavoro e abbiamo indicato al presidente Berlusconi che quando legge Abruzzo ha sempre un posto speciale nel cuore, libero per ascoltare e permettere delle risorse disponibili, gli abbiamo appuntato quali sono le vere necessità infrastrutturali di questa Regione che speriamo con la vittoria del centro-destra delle elezioni politiche possa rimettere in cima l'azione di governo. A stretto giro a Forza Italia risponde il Partito Democratico con Camillo D'Alessandro. C'è una novità tra le opere strategiche inserite nel quadro dei finanziamenti con fondi FSC stanziati dal Ministero dei Trasporti per l'Abruzzo, dice D'Alessandro. Oltre ai sette interventi già programmati con la delibera 83 del 20 febbraio, sono stati concessi ulteriori fondi per 1.600.000 euro che saranno dedicate ad interventi per la sicurezza sismica e funzionale delle dighe esistenti. Credo, continua D'Alessandro, che in nessun altro momento della vita ultra-quarantennale di questo ente siano fluidi in Regione così tanti finanziamenti di fonte governativa. Intanto a Teramo, per iniziativa di Gaetano Quagliarello, è stato presentato il libro sulle banche di Maurizio Belpietro. Focus sulla vicenda Banca Etruria, sottotiro l'ex ministro Maria Elena Boschi e la gestione della crisi delle banche, tra cui anche l'abruzzese Carichietti, da parte del governo Renzi. Avevo già raccontato una serie di fatti che riguardavano Renzi, i segreti di Renzi, del gruppo di poteri che ruota intorno a Matteo Renzi, al segretario del Partito Democratico. Io l'avevo raccontato in un libro che si chiamava appunto I segreti di Renzi, ma in questi anni poi c'è stato bisogno di scrivere altro e quindi di raccontare altri segreti. E quindi ho scritto questo libro che si chiama I segreti di Renzi 2 e aggiunge anche I segreti della Boschi perché ci sono una serie di vicende che hanno riguardato le banche, che hanno riguardato altri fatti, che hanno riguardato anche il ruolo di Maria Elena Boschi che secondo me andavano descritti e soprattutto portati all'attenzione dell'opinione pubblica. Di banche si è parlato anche a Lanciano in un incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle, ospite Elio Lannutti, fondatore dell'Associazione di Consumatori Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari e Assicurativi, che ha approfondito il tema del convegno dal titolo Banche e Finanza, dove va l'economia? Movimento 5 Stelle che a Pescara continua a battere sul tema della restituzione degli emolumenti percepiti per le funzioni istituzionali. Dopo le critiche ricevute dai grillini per i mancati bonifici da parte di alcuni parlamentari, i consiglieri regionali abruzzesi dicono abbiamo restituito oltre 600 mila euro. Sì, 627 mila euro per la precisione in 5, in 3 anni e mezzo, questa è la cifra che siamo riusciti a mettere da parte e che abbiamo destinato ai cittadini abruzzesi. Con la prima tranche abbiamo creato un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che ad oggi ha finanziato oltre 70 imprese abruzzesi, quindi piccole e medie imprese del territorio. Con 220 mila euro lo scorso anno, dopo l'ondata di maltempo e l'abbondante nevicata che ha paralizzato Regione Abruzzo, abbiamo acquistato e donato alla protezione civile di Regione Abruzzo una turbina spalaneve che oggi, che nevica, probabilmente sarà in giro per le strade d'Abruzzo a liberare le strade. Con 5 mila euro abbiamo, gli ulteriori 5 mila euro li abbiamo destinati alla premiazione del contest di idee riscattiamo bussi.